E' concentrato in montagna il patrimonio di boschi e foreste della Lombardia. E' il dato principale del rapporto annuale sullo stato delle foreste promosso dalla regione in collaborazione con ERSAF. Il numero di ettari a bosco è in costante crescita ed ora si attesta oltre quota 621.000. Il bosco finisce così per coprire quasi il 26% del territorio lombardo. Le foreste però sono concentrate in montagna quasi l'80% del totale. In collina si scende alla 13 mentre solo il 7% dei boschi sono presenti in pianura. Tuttavia è proprio nelle zone pianeggianti vocate all'agricoltura intensiva che si registra l'aumento più consistente delle aree boschive reintrodotte proprio dall'uomo. La provincia che in termini assoluti aumenta più di altre le aree foreste è quella di Brescia con 141 ettari in più rispetto alle rilevazioni precedenti.